Marco capitolo 9 diceva loro in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di dio venuto con potenza sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro Giacomo e Giovanni e lo condusse solo in disparte sopra un altro monte e fu trasfigurato in loro presenza le sue vesti divennero sfolgoranti candidissime di un tale candore che nessun lavandaio sulla terra può dare e apparve loro Elia con Mosè i quali stavano conversando con Gesù Pietro rivolto a Gesù disse rabbi è bello stare qua facciamo tre tende una per te una per Mosè una per Elia infatti non sapevano che cosa dire perché erano stati presi da spavento poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra e dalla nuvola una voce questi è il mio diletto figliuolo ascoltatelo e a un tratto guardandosi attorno non videro più nessuno con loro se non Gesù solo poi mentre scendevano dal monte egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti essi tenero per sé la cosa domandandosi tra di loro che significasse che risuscitare dai morti poi gli chiesero perché gli scrivi dicono che prima deve venire Elia e gli disse loro Elia deve venire prima restabilire ogni cosa e come mai sta scritto del figlio dell'uomo che gli deve patire molte cose ed essere disprezzato ma io vi dico che li è già venuto e come scritto di lui gli hanno anche fatto quello che hanno voluto giunti presso i discepoli videro intorno a loro una gran folla e degli scrivi che discutevano con loro subito tutta la gente come vide Gesù fu sorpresa corse a salutarlo e gli domandò di che cosa discutevate con loro uno della folla gli rispose maestro ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto e quando si impadronisce di lui dovunque sia lo fa cadere a terra gli schiuma strida i denti rimane rigido ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero ma non hanno potuto Gesù disse loro o generazione incredula fino a quando sarò con voi fino a quando vi sopporterò portatelo qui da me e lo condussero e come vide Gesù subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni e caduto a terra si rotolava schiumando Gesù domandò al padre da quanto tempo gli avviene questo e gli disse dalla sua infanzia e spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco nell'acqua per farlo perire ma tu se puoi fare qualcosa abbi pietà di noi e aiutaci e Gesù gli disse dici se puoi ogni cosa è possibile per chi crede subito il padre del bambino esclamò io credo vieni in aiuto alla mia incredulità Gesù vedendo che la folla correva sgridò lo spirito immondo dicendogli spirito muto e sordo io te lo comando esci da lui e non rientrare di più lo spirito gridando e strazzando forte uscì e il bambino rimase come morto e quasi tutti dicevano è morto ma Gesù preselo per mano lo sollevò ed egli si alzò in piedi quando Gesù fu entrato in casa i suoi discepoli gli domandarono in privato perché non abbiamo potuto scacciarlo noi e gli disse loro questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera poi partiti di là attraversarono la galilea ma egli non voleva che si sapesse infatti stava istruendo i suoi discepoli dicendo loro il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno ma tre giorni dopo essere stato ucciso risusciterà ma essi non capivano le sue parole e temevano di interrogarlo giunsero a capernaum e quando fu in casa domandò loro di che cosa discorravate per la strada essi tacevano perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande allora seduto si chiamò ai dodici gli disse se qualcuno vuole essere il primo sarà l'ultimo di tutti il servitore di tutti e preso un bambino lo mise in mezzo a loro poi lo prese in braccio e disse chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome riceve me e chiunque riceve me non riceve me ma colui che mi ha mandato giovane gli disse maestro noi abbiamo visto che uno scacciava i demoni nel tuo nome gliel'abbiamo vietato perché non ci seguiva ma gesù disse non glielo vietate perché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome subito dopo possa parlare male di me chi non è contro di noi e per noi chiunque vi avrà dato da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di cristo in verità vi dico non perderà la sua ricompensa e chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me meglio sarebbe per lui che si fosse messa una macina al collo da mulino e fosse gettato in mare se la tua mano ti fa cadere in peccato tagliala meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella genna nel fuoco inestinguibile dove il verme loro non muore il fuoco non si spegne se il tuo piede ti fa cadere in peccato taglialo meglio è per te entrare dopo nella vita che avere due piedi da essere gettato nella genna dove il verme loro non muore il fuoco non si spegne se l'occhio tuo ti fa cadere in peccato cavalo meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di dio che avere due occhi da essere gettato nella genna dove il verme loro non muore il fuoco non si spegne poiché ognuno sarà salato con il fuoco il sale è buono ma se il sale diventa insipido con chi ci si darà sapore abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri insipido con chi ci si darà sapore abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri